Una giornata importante perché il centro-destra oggi ha dovuto cambiare linee e venire sulla linea che noi da una settimana stiamo facendo. Presidente su quel parte, se l'altro da tutti e non presidente di parte, come loro hanno sentito, per noi è comunque un risultato positivo, noi siamo contenti di questo.